in realtà è scappata via ma perché diciamo era una cosa molto strana io arrivi in stazione volevo accendere la sigaretta lei era lì con la sigaretta e l'accendino in mano faccio mi fai accendere lei dice di no e io le faccio guarda c'è l'accendino in mano perché non mi fai accendere lei fa no non ti faccio accendere io vado al ragazzo accanto che mi fumo sta sigaretta entro nel treno e mi trovo lei di fronte al mio posto dopo dieci minuti inizia a sottolineare evidenziare queste frasi in questo libro di bukowski e a farmele vedere ovviamente erano frasi d'amore e a un certo punto li faccio ma c'è qualche problema cioè dimmi lei non mi parlo non mi parlo nessuno praticamente e niente infine arriviamo a destinazione a bologna e lei scappa allora sono arrivato in studio e ho scritto sta canzone così è nata